Bloccato l'aumento delle tariffe idriche, si è tenuto presso la sede della Stoato 5 di Frosinone un importante incontro tra le associazioni dei consumatori più rappresentative della provincia di Frosinone, aderenti all'OTUC, la Segreteria Tecnica Operativa e a ACEA per discutere modalità applicative dell'aumento tariffario deliberato dall'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Oggi la regolazione tariffaria introdotta dalla RERA prevede che il corrispettivo aspettante al gestore si è calcolato sui costi efficienti che deve sostenere il gestore per l'erogazione del servizio idrico. Al termine dell'incontro il presidente dell'OTUC, l'avvocato di sotto, non nasconde la sua soddisfazione. Nonostante rigidi criteri di articolazione tariffaria imposti dall'autorità, l'ottimo lavoro svolto dalla Sto in una procedura partecipata con lo stesso gestore ACEA ha consentito di elaborare un piano tariffario che non solo ha evitato il previsto aumento di circa l'8%, ma ha anche ottenuto una riduzione percentuale che va dal 4 al 7%, di cui beneficeranno soprattutto le utenze per uso domestico residente. A ciò si aggiungerà il bonus sociale idrico per gli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico, continua di sotto. Beneficio che dovrà essere richiesto dagli interessati tramite comuni di residenza, che spero si attrezzino per l'esigenza o stipulino convenzione con i CAF. Tali risultati sono stati possibili non solo grazie al ritrovato dialogo fra l'ente di governo, il gestore e le associazioni dei consumatori, ma soprattutto grazie al senso civico di tantissimi cittadini quali hanno capito, nonostante tanta disinformazione, che il modo migliore per risolvere i problemi del servizio idrico non è quello di non pagare le bollette, ma di confrontarsi con chi gestisce il servizio e con chi lo controlla. Sono certo, conclude di sotto, che questo risultato potrebbe andare ben oltre. Si potrebbe arrivare ad un risparmio in bolletta che va dal 20 al 31%, se gli abusivi pagassero l'acqua e addirittura fino al 38% se si abbassasse la morosità, fattori che incidono nelle spese percentuali sulla tariffa. Occorre pertanto un sforzo maggiore in questa direzione, nell'interesse di tutti.